Fedain, il gruppo entra in su durante il coro della Roma, la reazione dello stadio. Quando, durante il riscaldamento, tutto l'Olimpico guardava con malinconia i seggiolini tristemente vuoti dei Fedain. Il pensiero andava diretto a quello storico striscione prima rubato e poi bruciato a Belgrado dagli ultras della Stella Rossa. All'improvviso, durante mai sola mai, il gruppo però entra. Ed è ovazione, prima la curva al completo. Poi l'Olimpico tutto. Commozione in curva a sud per i Fedain forte, fortissimo. L'affetto dei romanisti, qualcuno è commosso, qualcun altro fa il video con il telefono. Tutti applaudono. Talmente tanto che viene persino abbassata la musica dell'inno. Si sentono solo gli applausi e il coro storico del gruppo. Poi riparte mai sola mai. Con i Fedain presenti al loro posto. Come sempre. C'è solo la malinconia di vedere il muretto senza uno striscione che ha fatto la storia del tifo. Romanista e non. Virgola.